Torna il Festival del Compositore, quest'anno diciottesima edizione, cosa ci attende, cosa vedremo? Allora, l'anno scorso è stato molto bello, sempre a Carlo Felice, avevamo la nostra orchestra che l'abbiamo formata nel 2019, abbiamo fatto già diversi concerti, che si chiama Paganini Ensemble, proprio per ricordare il nostro grande musicista, e quest'anno invece sarà l'anno dei grandi solisti, giovanissimi. Fra l'altro abbiamo un compositore di soli 16 anni, proprio per la prima volta, ed è veramente un portento, perché io ho potuto ascoltare la sua sonata, eseguita fra l'altro dal papà, che è un maestro di pianoforte al conservatorio, ed è straordinario, sembra impossibile che un ragazzo di 16 anni abbia scritto una musica così, una composizione così difficile, fra l'altro. Poi abbiamo dei giovanissimi, due violinisti, uno viene da Londra, fra l'altro, molto bravi, e abbiamo sette compositori quest'anno. Festival che cresce ogni anno, però voi avete un grande sogno da realizzare. Da tanto tempo abbiamo questo sogno, diciamo così, nel cassetto, ne abbiamo parlato anche col sindaco, e penso che questo sogno si possa realizzare, visto che abbiamo avuto tante richieste di compositori all'estero, perché abbiamo avuto, nelle edizioni precedenti, abbiamo avuto compositori dalla Svizzera italiana, dalla Svizzera tedesca, dall'Argentina, dal Giappone e dall'Inghilterra. Quindi il sogno nel cassetto è quello di poterlo fare diventare internazionale. Ci speriamo molto per il prossimo anno, ci sarà molto da lavorare, perché questo festival porta veramente via molto lavoro. Ma se vogliamo realizzare questo sogno, abbiamo bisogno soprattutto di molto aiuto da enti e dal nostro comune, dalla regione, per portare avanti anche la nostra orchestra, perché è formata da giovani e da anche professori dell'orchestra del Carlo Felice. Quindi speriamo bene. Grazie a tutti.